E' la prima e ultima volta che mi esprimo sull'argomento. Postando l'intervista apparsa ieri sull'equip, Bulaidi ha aggiunto questo commento. Il senegalese aveva mimato il gesto delle catene dopo il gol contro l'Udinese. Ad agosto, come a voler far capire di sentirsi prigioniero e, rompendo ieri il silenzio in via eccezionale, ha dato quasi la sensazione di doversi sfogare, votando il sacco per poi tornare nell'oblio. Il calciatore senegalese non ha gonfiato il sacco, ossia la rete avversaria con la stessa continuità della scorsa stagione, quasi magica e per questo probabilmente irripetibile, almeno a queste latitudini, e dalla partita di Udinese è stato ancora di più additato come il grande responsabile del disastro stagionale di Granata. Di A ha spiegato che non si è mai rifiutato di scendere in campo, ma di avere alla richiesta di Leverani di scaldarsi per entrare fatto un gesto con la testa, dopo il quale il tecnico fece entrare un altro compagno. Ci sono state troppe bugie, voglio mettere le cose in chiaro, così di A, non mi sono mai rifiutato di entrare all'ottantesimo, l'allenatore mi ha chiesto di andare a scaldarmi, ho solo fatto un gesto con la testa, non pensavo proprio di entrare perché non mi ero per nulla riscaldato prima. Ha visto il mio gesto, mi ha detto subito siediti, poi ne abbiamo parlato nello spogliatoio, ha detto che doveva restare tra noi, poi ha spiattellato tutto in conferenza stampa subito dopo. Io non mi sono mai rifiutato di entrare, ho anche compagni di squadra pronti a testimoniare. La solitana mi chiede 20 milioni di euro di sarcimento da anni, oltre allo stipendio ridotto del 50%, fino a fine stagione. Il tutto senza giocare, ora vogliono trovare una soluzione per vedermi giocare ancora. Ed ancora, il club continua di A, a sporto denuncia contro di me una settimana dopo, hanno presentato una richiesta al tribunale, siamo ancora nel processo e se continua così abbiamo minacciato di sporgere denunce a noi stessi. Ma da allora il club ha voluto una mediazione, volevano incolpare me, ora vogliono una mediazione. Il nuovo allenatore Colantuno vorrebbe riavermi per dare una mano, riceve aggiornamenti regolari sulla situazione. Più di una volta mi ha dimostrato di dovermi avere in squadra, ma non abbiamo alcun accordo, sono sotto contratto e non avrei mai voluto questa situazione. La solitana ha dato tutto in passo alla stampa, ho parlato con il presidente, non sono riuscito nemmeno a spiegarmi, non mi è stata mai chiesta la mia versione dei fatti. La società non ha accolto di buon grado l'intervista del calciatore che resta nel Milino di Lazio e Fiorentina, ma aperto anche a destinazioni estere. Si attende ora la prossima puntata. Grazie. 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 Grazie a tutti.